giornata tipo colazioni si è addormito qualche cliente camere bagni e o dolci o si inizia la preparazione per il pranzo siamo in due io il mio compagno e poi in agosto quest'anno credo che avremo la presenza di suo fratello che ci darà una mano solo il weekend c'è tanta gente per questo non possiamo permetterci una persona fissa in più per chi ha di essere sempre veloci insomma di soddisfare un po tutti se hanno pazienza ovviamente questa è la parola chiave per noi quando c'è qualche problema qualcosa che non va o magari arriva una richiesta un po fuori luogo chi è di due che va ad affrontare la questione dipende a chi viene chiesto solitamente il rapporto con la gente se l'ho io e sono leggermente più paziente anche questo è vivere in rifugio alla prossima Grazie a tutti